Club di Sammo 2007 in descrizione ragazzi è anche il mio club Bispliciate il link in descrizione, vi unite alle club Noi vi mettiamo a tutti i social anziani e potete partecipare alle nostre live senza problemi E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati di nuovo su Brawl Stars Io vi ringrazio per tutto il supporto di questi giorni Ieri siamo tornati di nuovo a 12 like di video in pochissimo tempo Quindi ragazzi vi ringrazio a tutti, a chi condivide, a chi mette like, a chi si iscrive Vi ringrazio tantissimo E oggi ragazzi proprio per questo vi chiedo 10 like nuovo episodio Quindi non più 5 like ma 10 like Vediamo se ce la facciamo, io spero di sì E oggi ragazzi siamo tornati appunto come avete già visto su Brawl Stars E nel negozio oggi c'è una skin di Piper Ovvero la skin di Piper rosa che si può ottenere nel negozio stellare Che è ovvero la skin stellare E' molto carina perchè comunque se non sbaglio quella spara anche arcobaleni Quindi spara l'altro di arcobaleno Comunque è molto carina rosa Così con questo vestito è una rosa E quindi ragazzi la andremo subito ad acquistare Ora mi raccomando lasciare un bel pollicione in su E ecco qua la nostra Piper rosa Facciamo anche un bello screenshot Perfetto abbiamo fatto anche lo screenshot E quindi ragazzi Ora andiamo subito a fare delle partite in sopravvivenza Con la skin di Piper rosa Adesso la andiamo subito a mettere Eccola qua guardate quanto è bella La andiamo a selezionare E andiamo a fare della sopravvivenza E ragazzi quindi andiamo a fare subito delle sopravvivenze in duo Speriamo di trovare qualche avversario decente Visto che siamo al grado 2 Andiamo un po' Abbiamo uno che ha appena trovato 8 bit Perfetto cg per lui Ma non si muove Quindi non so perché Ok Sta sperimentando come funziona 8 bit Se ti muovessi però No No non lo prendo Vieni 8 bit Corri Mamma mia No davvero devo mirare Eh lo so 8 bit Ti muovi Ok Ucciso Questa è un po' Questa è un po' sento la cometa e ti ammazza tutto perfetto siamo rimasti in aria ok ci sta è un vinto perfetto usciamo diciamo un'altra raga speriamo di trovare avversari un po' meglio però per favore non gente sta ferma perché quando raga scusate se perdo poco ma sono concentrato ve lo ripeto ancora 10 like nuovo episodio di Brawl Stars questo sta ferma io non capisco la gente sta ferma perché dai dai ci sono delle cassette interessanti raga ha ucciso uno il primo ha ucciso uno il primo attenzione raga aaa morta Sì 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 Mori Ok Perfetto dai Lucas comunque è meglio eh Cioè comunque almeno si muove Ok siamo 10 contro 7 Vediamo se ce la facciamo Aia E lui ha finito Vabbè secondo non importa essi Erano forti E ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando grazie per aver guardato fino a qua Poi forse oggi Nel pomeriggio uscirà un nuovo video Perché ci mancano solamente 2 gemme Per la skin di Penny Pasqualina Che anche oggi c'è di nuovo nel negozio Scusate raga ma mi si interrompeva Mi continuo la registrazione Quindi noi ci vediamo in un prossimo video O oggi pomeriggio O domani come vi ho già detto E ragazzi mi raccomando 10 like nuovo episodio Quindi vi saluto Ciao